Marijuana Questa è una sostanza ricavata dal fiore della cannaba Gli effetti sono molteplici Si può passare dall'euforia al rilassamento alla fame chimica Questi effetti vengono utilizzati in vari ambiti Come ad esempio per contrastare la carenza di appetito Tipica dell'AIDS e del cancro Oppure per contrastare la nausea tipica della chemioterapia O per contrastare la rigidità muscolare tipica La sindrome di Turet e della sclerosi multica E tu, hai mai provato gli effetti?